Dai Dove è un'applicazione che ci permette di visualizzare in modo molto rapido e facile su una mappa dove si trova il dispositivo Dai più vicino. È stata sviluppata da un ente di soccorso qui della nostra zona. Secondo me è molto utile da avere sul telefonino e ci permette appunto di sapere in modo rapido con un semplice click dove possiamo trovare il dispositivo Dai più vicino a noi. Per chi non lo sapesse il Dai è il distributore automatico che può essere usato da chiunque basta accenderlo dall'in poi ci dà tutte le istruzioni anche se sarebbe meglio che venisse utilizzato da chi ha avuto almeno un corso di formazione sull'utilizzo del Dai che è appunto il BLS. Grazie. 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 Grazie.